Ehi, benvenuti ragazzi e ragazzi, il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video Come volete vedere siamo qui su Minecraft Stoneblock Allora, rispetto a parte che mi va veramente, veramente bassi con gli FPS Infatti non arrivo a... ok, mo 10 Ok, mantengo 10 FPS, però perché... Ok No, ok, dovrò restartare poi... ok Ok, dovrò sistemerò questa cosa, forse ho capito il sistema Però, l'unica cosa che posso fare, ora come ora, è fare questa Quindi abbassare... forse portandoli a... ah, illimitati Ok Sì, ok, faccio sempre quelli Direi, tranquillamente Di... per questo episodio, diciamo, non faremo troppe cose Dal punto di vista tecnico o missioni Perché andremo a esplorare A parte questi esseri che mi hanno abbelenato Però, ok, stiamo intorno... ok Abbiamo recuperato Sì, intanto io in queste zone qui continuo a... diciamo, distruggere un po' tutto Ora, piano piano, ok Che era qui che volevo andare Che comunque qui qualcosa ce l'ho per poter riparare Ora Questa me la... me la porto comunque appresso Ok, mi sa che non ho svuotato l'inventario Infatti ho tutto pieno, quasi tutto pieno Però la cosa non è che interessa troppo Prima cosa, devo fare uno screen Se lo fa Ok, fatto così Ho più o meno salvato La zona del... Diciamo, la zona del... Di dove si trova il portale Così, in questo modo Stiamo abbastanza tranquilli La zona dove sta il cibo Stiamo tranquilli Perché comunque... Effettivamente stiamo tranquilli In quella zona lì Ora, ho notato che in questa... In queste zone qui Possiamo tranquillamente beccare Di qua Queste costruzioni E... dove... All'interno c'è... Questo accumulatore Che non so sinceramente a cosa serve Delle cesta Diciamo che le... Che le ceste sono comode Perché... A parte quelli Era un voler Che già le ho... L'ho presa Ma... Peno piano Andando più lontani Potremmo Incontrarne delle altre Perché si trovano cose Abbastanza utili In particolar modo le cose Anche le cose della Draconic Ok Minecraft decide di Laggare un po' Anche perché Sta generando il mondo Unì già mi fa Pochi fps Ora In questa zona qui Direi tranquillamente Ok Ok Guarda quello che volevo fare Ok Iscriber Ah Erano Pochi Ok Sì erano pochi Quindi direi Tranquillamente Possiamo Andare Verso avanti Ora Piano piano Comunque Spero Di riuscire A trovare Cose Abbastanza utili Ok Vedo Due Buche Penso Siano Ok Ingressi A grotte Che Non Ci interessano Ed un villaggio Ottimo Il villaggio È Utile Ora Volevo Andare Di qua Sotto dentro Una casa Tu Ok Con Not Blocco Mi da smeraldi E cose del genere Tu sei un villaggio Normale Che per la pelle Vuoi Ok Mi potete Dare qualcosa Di utile Non credo Ora Se riesco Ad uscire Visto che Ne avrei Anche Abbastanza Bisogno Ok Questo Mi piace Quello che ho visto Anzi Quello che sto Vedendo Ok Queste sono Le costruzioni Delle Stelle Le stelle Delle api Se decide Di aprirsi Ok Cosa molto Molto utile Perché In questo modo Magari Uno dei prossimi Episodi Posso Dedicarlo Alle api Stesse Ok Altri alberi Ok Buono Ora Sicuramente Non posso Non posso Prendere Chissà che cosa Però Una cosa Sicuramente Che posso fare Cioè Non ho tutto Non ho tutto Questo spazio Ok Ok Però In questo modo Molto probabilmente Ok Faccio La gray normale E In questo modo Riesco a guadagnare Un paio Di Spazi In più Ora 13 pezzi Di terra Non ci faccio Nulla Neanche Con le ossa Felente Neanche Quindi Diciamo Che La cosa Che posso Fare È Quella Di togliere Comunque La roba Che non Mi serve Oddio La cobblestone Potrebbe Servire Se Se Magari Devo Fare Un Qualche Tipo Di Fornace Comunque Qualunque Cosa Che Potrebbe Appunto Essere Essermi Utile Qualche Modo Non 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 Interesse Ora Un Canola Press Io Questa La Prenderei Perché Comunque Quella Produce Energia No Ok Non Le Potevo Prendere Però È Stata Utile Comunque Ho Ottenuto Del Black Quartz Ok Queste Sono Casing Ok Questo Non So Cosa Sia Ora La Cosa Posso Fare Vedete Qui Ci Stanno Altre Ceste Tu Cosa Sei Qual Generito Ok Il Qual Non Credo Che Mi Possa Servire Però Un Blocco Si Potrebbe Essere Utile Come Cosa Comunque Occupa Poco Spazio Quindi Non È Che Serve Qualcosa Ok Tu Esmeraldi Ora Volevo Vedere Pure Quest'altra Casa Qui Ok Direi Che Posso Mangiare Perché Altrimenti Non Non Faccio Nulla Ok Ok Che Cose Per Fabbricare Dire Vedere Comunque Cose Che Così Si Possono Finire Abbastanza Utili Ok Qualcotto Ok Comunque Molte Molte Diciamo Cosa Abbastanza Non dico Sono utilissime Però Meglio Di Molte Che Magari Si trovano All'interno Dei Villaggi Ciao Tu Ok È solo Quello Che Può Darmi E Io Comunque Non Ho Smeraldi Ora Puoi Vedere Le Casi Di qua Quella L'ho Vista Quella L'ho Vista Questa Non L'ho Vista Anzi Queste Due No Queste Questa L'ho Vista Ok Qui Dentro Non C'è Assolutamente Nulla A parte Tu Che Per Pozioni Mi dai Robba Ok Qualcò Che ne avevo Uno Solo Se ne avessi Trovati Di più Sarebbe Stato Avrei voluto Fare Lo Scambio Ora Vediamo Di qua Cosa Posso Trovare A parte Ok Qualcosa Ci sta Sì Questo Questo Già L'avevo Visitato Ora Di là Io ci andrei Tranquillamente Diciamo Il villaggio È stato Esplorato Andrei Di qua Così almeno Posso farvi Vedere Cosa Viene Contenuto Qui All'interno Se ci fossero Le ceste Qui Ma a quanto pare No Non ci sono Ok Ok Sì ma Non sta Mangiando Non riesco a capire Ok Uno l'ho mangiato Stiamo a due Ok Quelli diventano Ok Ma danno invisibilità Non so Perché Ah ok Quindi questi danno effetti Ok Comunque La cosa Non è che Mi interessa Troppo avere Gli effetti Anche perché La cosa che Mi interessava Diciamo Era Quella di Recuperare Un po' di spazio Anche perché La Quanto riguarda L'invisibilità Non è che Vado a Mi serve Più di tanto Ok Tanto Tutto buio Però Ok Per otto Secondi Ora Quindi dovrei Ricominciare A vedere Per ora Possibile Di Fare Molto più In fretta Nel senso Almeno Per quanto riguarda Il raccogliere Risorse Ok L'effetto È finito Anche perché Qui in teoria Verso la parte Centrale Dovremmo trovare Dovremmo trovare Una cesta Almeno Almeno così Credo Ok Con questo Vediamo Quanti Ne riesco A togliere Ora Ora Altra cosa Magari Potrei fare È Quello Di Infilarmi Qui sopra Quindi Magari Dall'alto Riesco Anche A prendere Queste Così Di qua Ok Ok Devo Devo Mangiare Ok Tu no Non mi serve Quindi ti posso Buttare Ora ho messo Il cibo Ok Quindi ok Qui niente ceste Niente di niente Ora Vediamo se Posso buttare Qualcosa In qualche modo Magari Ok Sì Questo Tranquillamente Sì Quindi Woodcasing Ora È vero Sono cose Di still Dello still Non è molto Propenso A essere Fatto Però comunque Ho il Parecchia roba Che può essere Utilizzare Slimeball Ne ho tante Quindi posso Tranquillamente Prenderle Sì Non volevo Prendere questo Oppure Quanto riguarda L'altro Ora Vediamo cosa Posso buttare Tranquillamente Basalto È giusto È utile Giusto Solo Al punto Di vista Ok Forse Ho la Skystone Posso fare Il blocco Totale No Ok Sono cesta Scale Cesta Scala Quindi E si può Cucinare Quindi Niente da fare Ok Basalto Che Comunque Non andrò A utilizzare Le frecce Sicuro Non mi servono E anche Questo Quindi posso Buttarlo Ora Quindi vediamo Vediamo cosa Posso buttare Ok 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 Siamo un po' Piene Ok Comunque La roba di qua Non credo Che Continui A servire In qualche modo Ah Neanche tu Servi E Le torce Posso piazzare Tanto A meno Che le Niente Notte Non credo Che possano Servire Ora Aspettiamo Questa Parte Di Mondo Venga Generata Ok Il fatto Che sta ancora Caricando Mi fa vedere Comunque Se ci sta Qualcosa Sotto Ok Vediamo Ora Molto Probabilmente Lagherà Molto Ok Infatti Siamo scese Troppalo A 2 FPS Ok Ora Siamo a Quattaro Altro villaggio Sempre Sempre se non è Quello di prima No Non è quello di prima Ora Andrò 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 a vedere Andrò a vedere se ci sta qualcosa di utile Che posso prendere No Sicuro Non mi servirai Ok Lampada Tu mi dai Però sto Per molti aspetti Starei tranquillo Allora Direi Mentre qua Continua A farmare Tranquillamente Direi Che per questo video Può essere tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Tanto qui si sta abbassando di tanto L'energia Ora appena finisce questo Toglierò Quindi dicevo Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così è stato Mi raccomando di lasciare Un bel mi piace Di iscrivervi al canale E di seguirmi su Twitter Instagram Facebook Ovunque voi vogliate Io vi saluto E ciao a tutti voi